bravo ragazzi benvenuti in questo primo episodio di youtuber's life youtuber's life no youtuber's life scusate pedipay youtuber simulator pedipay youtuber simulator è un gioco che tu devi in pratica fare scritto e visualizzazioni un gioco come gli altri starete dicendo esattamente continuiamo con quello che avevo fatto io un episodio che non mi ha registrato purtroppo cioè l'aveva registrato ma non l'aveva registrato la mia voce riscattiamo il nostro primo premio e prendiamo questi 13 iscritti facciamo questo bazzuti e intanto guardiamo qua qualche missione che possiamo fare scopri te temi e visita cinque stanze a terra in una terina di cibo due volte in parco subito perché con questo mi ci volevo comprare il gattino se c'era se si può sbloccare però mi pare che non lo vedo quindi compriamo il micro microonde certo certo diciamo appaggo che sfortuna una sì ok basta abbiamo finito la missione prendiamo riscattiamo abbiamo riscattato due iscritti ma niente un microonde che bello abbiamo preso un microonde grazie so ovviamente che è un microfono però questo sarà il nostro microonde personale ma io come faccio ad effettuare questo login non mi piace neanche il nome ok ragazzi ovviamente penso che questo episodio dura poco perché lo voglio io che dura poco quindi in pratica l'episodio finisce qui noi ci vedremo nel prossimo episodio e in un prossimo video che porterò del canale alla prossima